I due equipaggi di Varese si stanno confrontando in questa gara del 4 di Coppia Junior, avanti l'equipaggio in acqua 2, le battute di gara con Matteo Dianin, Filippo Auccio, Dario Corti, Riccardo Savoldi e Laria Colombo che vanno a imporsi su Sascia Casola, Alberto Malavasi, Diego Fattoretto, Luca Santaterra e Paolo Meneghini. Al primo posto Paese, Matteo Dianin, Filippo Gauch. Dario Corti, Riccardo Savoldi e Laria Colombo.